vabbè comunque per scrivergli quindi you must read the point of conscience certo leggiamo tutto qua tutti prima di firmare e accettare quando scarichiamo le app leggiamo tutta quella merda che c'è scritto randaldur mi ma mi ho preso cosa lui di milano vediamo vediamo come possiamo scrivere un'email però aspetta scriviamo un'email a una persona bene davvero bene così veramente se ci risponde riusciamo a fare una cosa veramente figa quindi non so se sarà lui voglio guardarne altri ciao sofia grazie per i beat allora vediamo un attimo vediamo un attimo lui molto carino lo posso aggiungere nei preferiti tipo qualcosa del genere vediamo un po' io ti voglio chiedermi una cosa sto chiamando mia madre pronto? sì sì perché? sì perché ma perché sono criminali se si prendono una cosa arrivano da te e ti distruggono ma tu sei fuori ma sei veramente malata? ma ma scusami ma ti pare che arrivano fino a qua? cioè ma gli scrivo perché? per ridere magari ci faccio amicizia ma tu tu non puoi scherzare con queste cose ma lo sessi ma sei fazzita ma davvero? mamma ma guarda che sembrano dei propri ragazzi ma se sono in carcere posso essere tra di ragazzi ma guarda che faccino che c'è no ma fidati ma fidati tu ma di che cosa? ma sei fuori oh mamma ma guarda che si fa eh cioè perché loro sono da soli e vogliono e vogliono compagnia mamma ma ti spiego ti spiego ma guarda che non è che sono l'unica che lo fa eh ma guarda che in amicizia gli scrivo eh mica gli scrivo posso venire a un'email ma oh ma gli mando un ciao non è che si può innamorare di me ma gli scrivo ciao cosa fai nella vita e poi ma almeno è interessante ma tu non sei curiosa di sapere cosa cosa prova questa persona questo non li cerca nessuno sì ho capito ma loro lo fanno mamma loro lo fanno per avere compagnia non è che veramente si innamorano eh aiutati a fare una concertina smetti a rifarla a schiena capito non ti rovina la vita non devi proprio entrare in contatto con certe persone smettila non si gioca con certe cose ma va che posso scrivergli in aeronimo eh non si gioca con certe cose dai solo solo a a Randall Giulia Giulia ma mi vuoi dare l'està per favore mamma per favore I'm a low with criminal ma Giulia ma con tutto quello che potresti fare ma forza di dire delle cose stane di contenuti di un certo tipo ma come ti vieni ad andare a cercare un criminale forza ma guarda che questo è quello che ha più stelle sul sito da quella qui che gli scrive più gente Giulia non scherzare perché tu hai visto già con la denuncia che hai fatto con gente che sembra normale e poi te li ritrovi che sono dei pazzi ma tu sei veramente ma te ne vado a cercare i problemi ma davvero eh ma veramente ma sei impazzita ma non ci devi neanche pensare a una cosa del genere ma pare che alcuni sono dentro boh per spaccio cioè non è che sono dei criminali ascolta ma criminale piccolo criminale grande c'è una c'è comunque è un criminale per cui no devi stare lontano va bene ma va che stanno in America cioè non è che sono criminali italiani ma veramente tu ti infili in certe situazioni che veramente sembra che te le vai a cercare per favore per favore non smettila per favore ma hai delle cose interessanti da dire di contenuto eh fai passare dei messaggi di quello che sei veramente che non sei oh e basta ma la morale la morale te la tieni ma gli schivo a tutti a tutti schivo guarda ciao caccollo eh raga oddio questo sono io mio amico questi imitano tutti che ascoltano latinoamericano non so perché oddio ma questo perché è dentro giuro di saperlo questo perfino è nuovo si si parla di simone raga io gli ho detto che un bravo ragazzo lei non ci crede dice io so che mia mamma lo chiama baubau perché non non si ricorda il nome che mi dite raga bau bau gravissimo grazie gogo meno male che ci sei tu vabbè lui perché è stato arrestato oddio lui c'ha pure la descrizione oddio oddio che ridere questo bene se qualcosa che ho detto ha tirato la tua attenzione vuoi saperne di più non esitare spero di sentirti presto ricorda nessuno sa cosa riserva il futuro raga questo mi piace oddio sto male oh mia madre che ancora mi chiama pronto dimmi la devi smettere hai capito ma tu la devi smettere ma perché guardi le mie live ma mi lasci stare ma tu non hai niente di meglio da fare no no niente di meglio ma anche anche se questa gente che ti segue che vede che comunque ti piace oh ma stiamo giocando ma basta cioè mi piace anche i minati mamma basta è veramente ma non ti riconosco ma sei ma sei in te oggi ma non ti riconosco è un gioco è un gioco è un gioco raga vici campi le persone io dopo un giorno di live sono un'altra non ho cambiata raga allora cioè vabbè a parte il fatto che strafanni invece è un gioco